benvenuti nella rubrica del grande max non più come prima ricetta scritta e fotografia ma questa volta avremo anche dei tutorial oggi deliziamoci buongiorno a tutti sono valentina gambioli oggi preparerò i caffè nella marmellata di albicocche però possono essere preparati con altri tipi di marmellata o di cioccolata ingredienti sono la farina o un uovo e un tuorlo il burro lo zucchero e di latte a cui ho sciolto già il lievito di birra mettiamo la farina lo zucchero il latte il burro ed l'uovo intero e il tuorlo e mescoliamo finché non verrà un impasto morbido ed elastico poi lo stendiamo più o meno all'altezza di 3 mm lo coppiamo con il coppapasta in due dischi in uno passo nuovo e nell'altro metterò al centro la marmellata poi lo sovrappongo e lo vado a sigillare così che durante la lievitazione non si aprirà e anche durante la frigidora friggitura e una volta fatto poi lo ricoppo questo è il prodotto dopo la lievitazione poi lo friggiamo più o meno un 3 minuti per lato finché non sarà dorato poi dopo la frigidora possono essere passati o nello zucchero vero o nello zucchero semolato questo è il risultato questo è il risultato questo è lo zucchero semolato e gli altri lo zucchero vero questo è il risultato questo è il risultato questo è il risultato tutto tutto Grazie a tutti.